Marco Dredd Marco Dredd Marco Dredd ha delle novità, ci parla del suo secondo mixtape che sta per uscire che è un mixtape che proprio dal titolo parla di una mia condizione, di un mio stato d'animo di questo periodo e all'interno del mixtape ci sono le mie emozioni che ho voluto esprimere in modo così musicale all'interno di 70 minuti di musica il mixtape è formato da tre segmenti il primo segmento è un segmento New Roots One Drop si esprime molto di più l'amore, la mia sensazione di amare la vita e di amare le persone con le quali io faccio le cose il secondo segmento è un segmento Ragamuffin io mi avvicino alla musica reggae tramite il Ragamuffin il terzo segmento è il segmento Dancehall noi come Amadoc e Crew ci definiamo il torino Dancehall Specialist chi ti ha aiutato, chi ha collaborato con te? è stato mixato e prodotto da Michele, Miraflower è stato registrato alla One Black Sock di Corso Bello 178 quali altri riferimenti puoi darci per scaricare e per ascoltare il tuo mixtape? su Facebook scrivere il nome Marco Dredd sicuramente la gente, la massima di chi è appassionato di musica reggae potrà trovare il link per scaricare il mio mixape su reggae.it che è il forum, il portale di musica reggae per me più importante qui in Italia Far East, Dancehall Vibes, reggae DDL, comunque tutti i portali di musica reggae Marco Dredd Talk of self Marco Dredd something about me! tra le persone che ti hanno sostenuto o ti va di ricordare il nome di qualcuno in particolare? Madocca Crew, Don Kla, DJ Sacco, Zisco Fran, Smacko Kill, GG Supersound, Grappo Loro sono i primi che mi hanno supportato su questo progetto La mia famiglia, mia madre e mio papà Links My Artis Non vorrei dimenticare la Scatasuna e tutti i compagni della Scatasuna Marco Dredd per Madocca Crew Something About Me, Next Level, a metà marzo Peace Marco Dredd Something About Me, Next Level, Marco Dredd I Ami, When The Rollers Call Up